poi di testa ancora Asmun ostacolato da un compagno Lucas Vazquez cross profondo è rimasto in avanti Piché ha respinto pura Liganci Iniesta in avanti anche Mortesa pura Liganci ecco Amiri al centro ecco la deviazione Ansari Fard palla La Coupe du Monde e Patti Amineuco Oman Seis Si sono evidenziate anche fino a questo momento ora però c'è un po' di spazio per il sinistro di David Silva deviato in calcio d'angolo scambia poi Iniesta che crea lo spazio per il cross di Jordi Alba al centro pura Liganci in anticipo su Diego Costa Pusquez Passo doppio dribbling strepitoso Isco cross basso arretrato fermato da Rezaian aiutato anche da Radioepo di Ebrahimi di nuovo Isco leader tecnico della Spagna cross di David Silva respinto in fallo laterale a maggior ragione Isco Il è passato il è evito Rezaian il è là Kimi s'appliqué Kimi il a frappé un ballon qui était perdu sa recupera parionese Melanda la frappe de Melanda lui aussi si on retrouve contré Zièche un ballon pour El Karabi un très gros retour de Morteza pour Ali Ganji le champion de Turquie avec Galatasaray Eva Fegovis qui a réussi à redresser la course de cette balle le ballon qui arrive El Amadi c'était dévié ils sont à 10 contre 11 pour l'instant les marocains ils essayent de malmener cette équipe avec ce ballon il n'arrivera encore de la part de Zièche ça a été contré les marocains les marocains les marocains Grazie a tutti Grazie a tutti All'indietro Pura Liganci per Benan Van, comodo in dribbling Generale del Manchester United, però poi Alla fine le prove di De Gea sono state sempre più rassicuranti anche in quel fondamentale Un po' di spazio per l'inserimento di Diego Costa cercato da David Silva Fermato però da Allargarsi e permettere proprio a De Gea di uscire senza nessuna difficoltà Roderigo Alla fine le prove di De Gea di uscire per l'inserimento di QTSS Alla fine le prove di De Gea di uscire per l'inserimento di QTSS Alla fine le prove di De Gea di uscire per l'inserimento di QTSS Alla fine le prove di De Gea di uscire per l'inserimento di QTSS Alla fine le prove di De Gea di uscire per l'inserimento di QTSS Alla fine le prove di De Gea di uscire per l'inserimento di QTSS Alla fine le prove di De Gea di uscire per l'inserimento di QTSS Alla fine le prove di De Gea di uscire per l'inserimento di QTSS Alla fine le prove di De Gea di uscire per l'inserimento di QTSS Alla fine le prove di De Gea di uscire per l'inserimento di QTSS Alla fine le prove di De Gea di uscire per l'inserimento di QTSS Alla fine le prove di De Gea di uscire per l'inserimento di QTSS Alla fine le prove di De Gea di uscire per l'inserimento di QTSS Goal, goal, daddy